La povertà è la grande violazione dei diritti umani. L'indifferenza non è meno colpevole. Perché nel silenzio più assoluto, nel mondo, ogni sei secondi, un bambino muore a causa della fame. Tendi la tua mano. Aiuta a salvare il futuro. Partecipa anche tu al progetto Acqua Scuola Sanità per il Benin in Africa. L'Associazione Regina della Pace e Carità si occupa di solidarietà e aiuta le zone più povere del mondo con la costruzione di pozzi, scuole, ambulatori, chiese. Sostieni i nostri progetti. Dona subito. Per scoprire le opere già realizzate. reginadellapaceecarità.org Info Roberto Zaffiro 329 24 17 676 Don Cornelio 340 67 662 42